Milano e Notivu Milano e Notivu E dopo di che continueremo ancora una volta verso Corso Vittorio Emanuele per poi continuare in Via Beccaria e poi concludere tutto in Piazza Beccaria Quindi mi raccomando, parte fra poco, qua alle 5, 5 e mezza stiamo partendo, tutti voi, tutti con noi, Milano e Notivu sempre con voi Iniziamo! 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 Grazie a tutti. Noi come Convergenza delle Culture abbiamo aderito perché è nel nostro DNA la diversità, la diversità culturale. Per quello che Convergenza lavora su due fronti, il fronte della lotta alla discriminazione e il fronte del dialogo tra le culture. Perciò abbiamo molto lavoro di consentizione degli immigrati, di auto-organizzazione e anche di far conoscere all'italiano la realtà che si vive come nuovo cittadino in questi paesi. E noi ora continuiamo parlando di Intercultura a conoscere gli altri partecipanti di questa sfilata. E ci troviamo qui con Caporale, Sassimon, USA, Milano, Italia in questo caso. Ci troviamo con i rappresentanti. Ragazzi come vi è sembrata questa esperienza di Mondo in Festa? Allora, salve a tutti. È veramente un'esperienza bellissima e una grandissima opportunità per tutti noi. Siamo molto contenti di aver partecipato. Voglio dire grazie a tutti questi ragazzi per il suo sforzo. Veramente sono orgoglioso del mio gruppo per quello che abbiamo raggiunto perché dietro a tutto c'è un grande lavoro e senza uno di loro non saprebbe più lo stesso. Qui abbiamo come rappresentanza una delle ballerine di Marinera in Milan, la nostra Diana. Diana, dici che cosa ci racconti di questa esperienza? Noi oggi siamo venuti qui a rappresentare il Perù nella sua bellezza e nella sua danza tradizionale e nazionale. La Marinera Nortegna con questi giovanissimi ragazzi che si sono messi l'impegno già da varie settimane per preparare coreografie, per preparare vestiti, coppie, affinità, per preparare ogni singolo passo con amore verso la patria e verso il nostro Perù per festeggiare l'indipendenza. E qua abbiamo proprio una delle più piccole rappresentanze giovanili che ha partecipato a questa sfilata. Abbiamo qui Retogno Andino, uno dei progetti di Aspil. Andiamo a sentire direttamente da uno dei più giovani rappresentanti che cosa ne pensa di questa esperienza. Oggi è stata una bellissima esperienza per tutti quanti perché noi, Retogno Andino, come gruppo formato da bambini e anche grandi, di una media di età di 15 anni, siamo entrati in armonia danzando e anche suonando e questo fa sì che un gruppo sia unito nella musica latinoamericana. E non solo da Milano ma anche addirittura da Monza. Abbiamo qui una piccola rappresentanza di festa delle genti di Monza. Sì, siamo della parrocchia di Monza e siamo contenti di aver partecipato in questa bella sfilata. E finalmente siamo giunti alla conclusione di questa bellissima sfilata interculturale Mondo in Festa. Qui con noi lo staff dell'organizzazione che ha realizzato questo evento e in particolar modo il rappresentante dell'associazione ispano-americano che ha realizzato come capogruppo di questo grande team per realizzare Mondo in Festa. Questa prima esperienza logicamente ha il contributo non soltanto di tutte le comunità e associazioni, fino a anche il contributo del Comune di Milano e noi abbiamo fatto ricca questo territorio in quanto abbiamo mostrato la diversità, credo che è ricchezza, para tutti. L'associazione ispano-americana, come sapete, ha tantissimi anni lavorando, diffondendo la cultura e soprattutto organizzando festival, conveni. Grazie mille Milano e Notivu. Ormai la festa è finita! Abbiamo praticamente visto tutti i popoli sfilare, tantissime rappresentanze. Questa è per Milano, per questa città che è multiculturale e ovviamente noi come Milano e Notivu siamo stati qua a integrare, a far parte di questo bellissimo progetto insieme a tutte queste comunità. Milano e Notivu sempre con voi e alla prossima con Mondo in Festa!